Si apre una bella stagione per tutta Italia, per la regione, per Salerno. Cominciamo a vedere, per la verità già da un po' di tempo, i cortei di turisti con le bandierine alzate. Ovviamente questo deve impegnare sempre di più la città ad avere cultura dell'accoglienza, ad avere un ambiente gradevole, pulito. Ovviamente dovremmo migliorare la pubblica illuminazione, ho visto che si sta facendo il lavoro per il risparmio energetico, ma alcune strade sembrano dei cimiteri a cominciare dal lungomare, quindi l'illuminazione va raddoppiata in alcuni punti. Quindi ho sollecitato già l'amministrazione a concordare con l'impresa il raddoppio dell'illuminazione perché non va bene. Siamo in carenza di strutture alberghiere, quindi la destinazione rimarrà alberghiera, anche perché bisogna contrastare questa spinta a realizzare Bed & Breakfast in tutti i centri delle nostre città. Grazie.